Io credo che la Calabria sia una terra che è veramente ricca di grandissimi contrasti e il cinema racconta storie che partono dai contrasti e poi nel mio specifico poi nel Padre d'Italia addirittura è un film sui contrasti in tutto e per tutto quindi mi è sembrato giusto che questo viaggio che attraversava un po' l'Italia avesse il suo culmine in Calabria non solo perché la terra da cui vengo ma perché appunto per queste caratteristiche qua in più ti posso dire che secondo me sono grande fan del cinema ora calabrese che negli ultimi anni ha sfornato in realtà io non vengo mai riconosciuta come siciliana perché forse esteticamente non lo sono tanto ma in realtà sono proprio palermitana nel forse la cosa ecco molte cose sono simili secondo me nel sud cioè di chi è nato al sud in particolare io credo che essere nata in un'isola da una un'idea del della vita molto particolare un po' fatalista no cioè dico sempre che da subito ti insegnano che se il mare è grosso ti puoi lamentare quanto vuoi ma non parti la nave non parte no quindi anche sedersi ed aspettare questo devo dire che è una manna per me per il lavoro che faccio perché se non deve succedere non succede e sono tranquilla e faccio altro quindi sì una sorta di fatalismo che viene letto spesso come una cosa negativa in realtà è una grande una grande forza io penso che l'importante sia l'amore dove c'è amore per me c'è tutto quindi non non vedo problemi da nessuna parte per me ecco la cosa importante anche semplice secondo me da dire ma che forse non tutti arrivano a sentire è che se c'è amore c'è tutto ecco c'è una base talmente forte che che mi viene quasi rabbia a pensare che altri non la vedano così però non bisogna arrabbiarsi bisogna avere pazienza